Rocco sta alla ricerca di talpe, aspetta dai dai guarda Rocco come scava, stava per forza mangiando la talpetta tanto non ci riesci a prenderla, quello c'ha 2000 gallerie qua sotto quella la talpetta, pure cieca, io ho visto i cani scavare ma uno scava con la bocca e non l'ho visto mai dai 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 Rocco alla ricerca di talpe, con la bocca scava, con la bocca guarda guarda che sta facendo, sta scavando con la bocca, guarda, guarda, strappa l'erba con la bocca hai trovato niente Rocco? vabbè andiamo se ne via, niente, non si rende perché se sta sposta sotto le gallerie guarda, 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 chi la dura la vince niente, andiamo c'è via Rocco, andiamo, andiamo ciao no no Grazie a tutti.